Pubblicato il bando per operatore tecnico TMA metodo maietta che si terrà cicerale a partire dal prossimo mese di marzo sarà possibile scaricare i dettagli e le modalità di partecipazione sul profilo web terapiatma.com. I requisiti minimi sono il profilo di operatore, la laurea in alcune discipline indicate nel bando e la dimostrazione di buone capacità natatorie e le terapie vengono somministrate in piscina. La scuola dell'obbligo per il profilo di tecnico del TMA e la dimostrazione di disporre di sufficienti capacità natatorie è data a facoltà a chi non dispone dei requisiti indicati di partecipare al corso come auditore e servirà soprattutto alle giovani babysitter che così si specializzeranno nella gestione dei bambini con disturbi dello spettro autistico. Di questa figura ci sarà sempre maggior bisogno lavorativamente, per la prima volta in Italia saranno così formate e specializzate le giovani babysitter. Il corso TMA Maglietta è solo la prima di tre attività formative che si terranno a Cicerale e altre due saranno realizzate presto a Cicerale sotto l'egida scientifica di Sally Roger, Denver Model e Maria Teresa Sindelar Floortime. I più capaci e ben formati corsisti potranno accedere con facilità al mondo del lavoro, serviranno nella sola area del Cilento e Piana del Sele almeno 4-5 operatori, e tecnici. Il Pairi di Cicerale ha già testato e inquadrato gratuitamente per tutti 80 bambini dei quali almeno 20 accederanno alla terapia completamente TMA Maglietta. Entro fine anno si raggiungerà probabilmente quota 800. Al momento ci sono tantissime richieste da tutta Italia per partecipare al corso.